Disattivato l'autovelox, si torna a correre sulla Cilentana. Ieri sera intorno alle 22 sulla ex strada provinciale 430 Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli Agropoli Nord e Sud, si è verificato il ribaltamento di un'auto con a bordo due donne, madre e figlia. La prima ha avuto la peggio, è ricoverata in prognosi riservata e rischia la vita. Nella corsia opposta i carabinieri intervenuti hanno riscontrato segni di una lunga frenata. Non sappiamo, afferma il sindaco Adamo Coppola, se quella frenata sia attribuibile o meno ad un presunto pirata della strada, che avrebbe potuto provocare l'incidente e fuggire via. Lo avremmo potuto provare a capire però se l'autovelox non fosse stato impacchettato dall'ANAS qualche settimana fa con un atto del tutto arbitrario, illegittimo e con finalità puramente mediatica. Come detto più volte il dispositivo era disattivato, ovvero non elevava verbali da qualche mese e se non fosse stato imballato avrebbe potuto rilevare la targa dell'eventuale veicolo pirata, offrendo così ausilio agli inquirenti impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Inoltre la sua sola presenza portava a rallentare e quindi fungeva da deterrente per i veicoli in transito. A chi dipinge quello come una slot machine, prosegue il sindaco, possiamo solo dire che non ha mai elevato verbali a chi rispettava il limite di velocità e quando era funzionante, di sinistri non se ne sono verificati nel punto in cui è installato. A tal proposito ci tengo poi ancora una volta a precisare che ad abbassare il limite da 80-50 km orari sul tratto è stata l'ANAS, quale proprietaria della strada, per lavori e non il comune. E conclude, noi facciamo un in bocca al lupa alle protagoniste nel sinistro e speriamo che possano presto riprendersi, ma torniamo a dire che su quel rettilineo si corre troppo e qualora si verificassero sinistri mortali, come già avvenuto nel febbraio 2014, non certo noi, ma qualcun altro dovrà ritenersi responsabile, almeno morale, di quanto accaduto.